Sono dell'idea che si debba iniziare a rimodulare la gestione del fenomeno. Siamo diventati un clima quasi tropicale, dovremmo secondo me noi oggi abituarci a questo tipo di fenomeni, abituarci non ai disagi, ma abituarci a gestirli. Quindi non solo in termini di quella prevenzione di cui parlavo prima, ma anche in termini di convivere con questo meteo che è cambiato. E qui entro nel tema scuole. Se dovessimo chiudere le scuole tutte le volte che c'è un allerta arancione, quest'anno noi a scuola si va dieci volte, perché almeno questi due mesi sicuramente. Quindi non dobbiamo chiudere le scuole quando c'è l'allerta arancione, dobbiamo imparare a convivere, magari chiudendo quei tratti di strada che si allagano, per evitare pericoli per le persone, che ovviamente l'incolumità fisica è prima di tutto, e magari prevedendo una viabilità alternativa. Insomma, imparare a gestire in una routine quotidiana questo fenomeno che invece di verificarsi 5 volte l'anno si verificherà 20 volte l'anno.